ma mi spieghi che rumori sono che c'è no no niente stavo solo commentando il video scusa che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è ah mi state chiedendo voi allora io dire non mi sto chiedendo un bel niente anzi perché stai facendo sto video forse che che no con parole tue con calma no no non vi preoccupate non mi scambiate per favij come no ma tu sei favij uguale anche le cuffie che ha sempre le cuffie e sono proprio le cuffie avevano un pochino pensavo che tu fossi veramente favij che sei uguale mi servono mi servono un attimo per fare dei videogames quindi tu sei un programmatore di videogames la tua tavola complimenti sei un vero fenomeno l'italia ha bisogno di te ed essere forse un po' più intelligente no no te lo ripeto no ok forse no bello a tutti ragazzi bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono benito ma sì che lui c'è anche il bello a tutti ragazzi bello a tutti ragazzi bello a tutti ragazzi bello a tutti ragazzi sono benito guarda già vi immagino il nome del canale benito il dulce 2004 official channel oggi vi vorrei dire alcune cose a me 29 agosto è il compleanno mio eh cosa vuoi che ti dica bene farò dei videogiochi fare dei videogiochi a questo ci sapeva poi cosa farai terza cosa farò vabbè allora abbiamo proprio l'imbarazzo della scelta farò nuovi videogiochi ma proprio nello specifico no cosa farai specialmente expert one che c'è no no scusa scusa sto zitto vabbè ma cosa hai intenzione di fare noi comuni mortali che non programmiamo videogiochi gli uccido no non mi dire tu sei un assassino un assassino che entra dentro la casa vostra dalle webcam ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.